ringrazio tutti a partire da tutti i ragazzi del Nalu che li voglio nominare ad uno ad uno se me ne dimentico qualcuno per favore nominateli Marco Ferrigno, Gianfilippo Giannini, abbiamo Florin Lungo, abbiamo Luca Castiglione, Luca Ioviero, chi mi sto dimenticando? Vincenzo che ci hanno seguito fino adesso con tantissima pazienza e solo con una maglietta in cambio, le signore del bar che ci hanno servito il coffee break, la signora Alina del bar, poi abbiamo le ragazze della reception Federica Maria, lo staff degli distrighi che ci ha seguito con i cavi, Roberto D'Alessandro, Michele Fioretti, la preside Vittoria Rinaldi, grazie, grazie, il professor Pescapè, tutto lo staff voi che siete arrivati qua fino alle 6 e mezza, mamma mia che pazienza ragazzi grazie a tutti per essere venuti, noi ci facciamo la consuetta foto noi ci facciamo la foto e voi guardateci che ci facciamo la foto grazie a tutti ma mettiamoci qua dietro ma che siamo in quattro l'anno scorso eravamo venti ragazzi forza dai su pure voi dai i relatori tutti tutti quelli che hanno fatto qualcosa non solo quelli che hanno mangiato esatto ma poi dicono che comunque facciamo la venti tu non sei navi chi non sta salendo ovviamente come dimenticare il mitico fotografo Dino Picasso ci assiste bravo vai grazie a tutti grazie a tutti ancora buonanotte grazie a tutti 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 grazie a tutti